Nel secondo tempo c'è in campo Massaro per Boban, al quinto Donadoni, Dain, corridoio per Maldini che in area in girata di sinistro sorprende Pagliuca. Il Milan raggiunge il pareggio in avvio di ripresa con il quindicesimo gol in Serie A di Maldini. Rivediamo l'azione del difensore che in area con una girata riesce a mettere la palla in rete per l'1-1.